Il ministro per i rapporti con il Parlamento, Federico D'Inca, è risultato positivo al Covid-19. L'esito arriva da un tampone di controllo effettuato lo scorso 5 gennaio. Sono scattate immediatamente le procedure di profilassi. Il ministro, rendendo il nostro ufficio stampa, sa bene, non ha alcun sintomo e si atterrà scrupolosamente alle indicazioni dell'autorità sanitaria competente. Secondo uno studio INAIL ISS pubblicato sulla rivista Proceedings of the National Academy of Sciences of the US, riaprire tutte le scuole e riattivare i contatti sociali senza restrizioni potrebbe causare un'onda epidemica non contenibile. Stando a quanto rilevato dalla ricerca, allentare le misure restrittive quando l'incidenza delle infezioni è ancora alta può portare a un rapido nuovo picco dei casi e quindi dei ricoveri anche se l'R con T è inferiore a 1. Come spiegato dallo studio, l'R con T minore di 1 è necessario per permettere un margine di azione dopo il rilascio delle restrizioni, mentre la bassa incidenza è necessaria per mantenere il livello dei casi e quindi di ospedalizzazioni ed eccessi approssimativamente costante dopo che l'R con T ritorna a valori vicini a 1 a seguito delle riaperture. 9 regioni italiane hanno superato la soglia d'allerta che riguarda il tasso di saturazione delle terapie intensive che ospitano pazienti covid. Tale soglia è stata fissata a livello nazionale al 30% dei posti letto disponibili per regione nei reparti di terapia intensiva. In altrettante aree è stato varcato anche il limite del 40% dei posti occupati nei reparti ospedalieri. I dati rilevati dall'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari e Regionali relativi al 6 gennaio 2021 rilevano che la soglia del 30% è stata superata in Emilia-Romagna, Friuli-Venezia-Giulia, Lazio, Piemonte, Lombardia, nelle province autonome di Trento e Bolzano, in Puglia e in Veneto. La soglia del 40% è stata invece superata in Emilia-Romagna, Friuli-Venezia-Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, provincia autonoma di Bolzano, provincia autonoma di Trento e in Veneto. Nel terzo trimestre 2020 il reddito disponibile delle famiglie italiane è cresciuto del 6,3% rispetto al precedente trimestre. A questo dato si accompagna un aumento della spesa per consumi del 12,1%. Questi i dati dell'Istat, secondo cui nel periodo considerato la propensione al risparmio è stata pari al 14,6%, segnando meno 4,4 punti percentuali rispetto ai tre mesi precedenti, ma più 6,5 punti rispetto al terzo trimestre del 2019.